Zero contatto ti raggiungo, zero contatto ti raggiungo, il mondo è mio, sono finalmente entrata nella tua vita, ti farò fare ciò che voglio io. Guarda il contatto, soppesa l'illusione, forse un'esplosione, forse un'esplosione, tu ti chiedi ma come andrà? Zero contatto, zero contatto, zero contatto, illusione, prostrazione, dimmi se è vero, vedi niente, dimmi se è vero. Sì, sei entrato, vedo col telescopio un uomo entra in una stanza, una grande deflagrazione, siamo tutti in commissione di indagine. Cosa sarà successo in questo piccolo cuore? Cosa l'avrà portato a quel gesto estremo? A quell'eterna mistificazione? Quale mai la giustificazione?